sono i fiobbaselli c'è il gol del torino ragazzi incredibile ciao a tutti i gamers e bentornati sul canale di gt next gen ragazzi come ogni mercoledì ormai di consueto alle 14 siamo tornati sulla carriera con la frentiva 16 oggi si parte subito con buone notizie la prima è questa qua di damasina che mi ingrazia per aver fatto giocare e io prego un buon giocatore il messaggio ma soprattutto ragazzi è arrivato questa qui ristabilito davide astori è nuovamente a disposizione quindi magari ora inizio sarà ciaccato però ragazzi abbiamo una nuova squadra e questa è una grandissima notizia ok allora eccoci giunti alla prima partita del giorno che quella contro il torino la formazione è questa qui alonzo calinice braccikowski ragazzi ho dato un turno di riposo a baskets che era stanco e un proprio votello dietro le punte perché comunque molto tecnico come giocatore poi borcavaliero e vadeli al posto di uno stanco fernandez di uno stanco anche radovanovic e poi massina roncali a rodrighe sabate e tatalusano astori ancora il cerotto quindi aspetto prima che si sia ristabilito del tutto e poi tornerà ad essere titolare comunque ragazzi andiamo subito nel match eccoci qui giunti ragazzi il primo match di questo episodio fiorentina torino squadra abbastanza posto da qui c'è un sito come va palinici dentro perciò teglio nella sua nuova posizione teglio provo il tiro subito rimpallato alonso dentro alonso ancora prova il prossimo colpo di testa non riuscito di un sopio sono uno presto velocissimo prova il cross dentro verso mauric traversa poi il pallone che rimane lì diamo fuori palla pericolosissimo il tuo dino sono maxi lopets il pallone che rimane lì ancora dovevo buttare fuori palla sono i fiobaselli c'è il gol del torino ragazzi incredibile stava attaccando il torino infatti ed è passato in vantaggio meritatamente direi corre il torino avanti con avelar guardate avelar colpo di testa morì miracolo di tatalusano il torino ci sta creando tantissimi problemi ragazzi e finisce qui il primo tempo ragazzi il torino ci ha dominato sono veramente in difficoltà spero che nel secondo tempo possa riuscire a recuperare perché se continuiamo così perderemo questa partita vediamo come andrà il secondo tempo ragazzi avevo calinici infortunato un clitometro il puma babaca sono Bradley che ha un buon tiro Bradley ha da dentro maxi Lopez c'è il gol 2 a 0 nulla da fare ragazzi torino scatenato l'arbitro ha segnato giustamente il gol qui come possiamo vedere è il gol vedete c'è la goal line technology è il gol Luvallo Rodriguez dentro bel pallone Teglio ma Babacar che se ne va Babacar che fresco Babacar ma ora vedete deve appuntare 800 difensori pallone dentro il tiro la parata proviamo il tiro è fuori di pochissimo deviata la palla Teglio Teglio che se ne va ancora Teglio ha visto lo scatto per il Puma Babacar Babacar la piazza Padelli ancora Teglio ancora Teglio prova il tiro ancora Padelli miracolo avonzo Puma Babacar Tiro il gol 2 a 1 accorciamo le distanze al 73 non siamo ancora spacciati vi vediamo il tutto il suo di due qualos il padre di quando uscire bravo per il cavallo il cavallo il cavallo ha visto dentro lo scatto di Crisantelio tenne solo tenne il tiro la parata il miracolo di il padre di ci siamo divorati il pareggio funziona ancora il Torino qui come apparece il tiro la traversa allora proviamo l'ultimo attacco vediamo se abbiamo ancora tempo Pasquale dentro no ragazzi non c'è più tempo la Fionitina perde la sua prima partita di questo campionato in casa contro il Torino ora andremo ad affrontare l'Internet Big Match tra la prima e la terza ok ragazzi prima di andare all'Inter ecco qui brutto colpo Nicola Kalinic sarà infortunato per tre settimane ve l'avevo detto che sarà infortunato in partita quindi purtroppo per tre settimane non avremo più disponibile ok ragazzi eccoci giunti nelle formazioni come vedete questa è la formazione della Fiorentina alquanto strana perché dopo questa partita avrò gli ottavi di finale di Europa League quindi devo tenere i titolari a riposo inoltre ho Kalinic e con E infortunati Astori ancora incerottato molti titolari stanchi quindi ho dovuto fare un vero e proprio styling della formazione quindi ho messo Alonso Bernardeschi punta perché ho solo Kalinic se mi si infortuni poi non saprei chi schierare in Europa League e Teglio Costa per tenere Vasquez a riposo Vesino e Fernandez Pasquale Roncaglia Benaluan per tenere anche Rodriguez a riposo Versalico e infine in porta quindi andiamo a vedere con questa formazione molto rimaneggiata come andrà questo big match contro l'Inter entroci qui ragazzi big match Fiorentina Inter che sta per avere inizio sotto la pioggia tornare a riposo Tino Costa Ha subito il Tino Costa il gol 1-0 Al sesto minuto Passiamo in vantaggio Con Tino Costa Questa formazione è totalmente rimaneggiata Vediamo il tutto Guardate qua Bernardeschi Pressing Pallone dentro Tino Costa Bellissima la coordinazione 1-0 per noi Perisic Che ora se ne va Perisic Perisic Pallone dentro Pallone dentro Per Bernardeschi Che questo lo scatto di tiro Andanovic Cross dentro Colpo di testa Ancora Andanovic ragazzi Ma lo ne è messo Pallone Bernardeschi prova dalla distanza Il gol Grandissimo gol Di Bernardeschi Che cosa ha fatto 2-0 per noi Euro goal Guardate qui Uscita di Andanovic Guardate Bernardeschi Guardate Qua si è avvenuto Al volo 2-0 per noi Tino Costa Dentro verso Bernardeschi Bernardeschi che si ferma Tiro Parata di Miracoli Stamina Andanovic Ancora Andanovic Miracoloso Attenzione Tiro di Tino Costa Abloca Andanovic Attenzione qua Bell'azione Matti Fernandez Avanza in aria Matti Fernandez ancora Può provare il tiro Trova la deviazione del 3-0 Deviazione fortuita Il gol va a Bernardeschi Per quello che è successo Rivediamo Guardate Matti Fernandez si fa tutto bene Guardate qui Tiro Deviazione così fortuita Il gol va a Bernardeschi Vi vediamo guardate Eccola Bernardeschi Comenzare Disegna in qualsessimo Sono all'intero Santon Santon che avanza Prova il cross dentro Tata Lusano Miracolo Sessi fa da steve Sessi qua Vesino provate la distanza Miracolo di Andanovic Sesserebbe stato un altro Neuroball Attenzione qui Benaluan che Gancia pallone Tiro La deviazione è nulla da fare E finisce il primo tempo Ragazzi con la formazione Di maneggiata Sto dominando 3 a 0 E come avete visto Ho avuto molte occasioni Vediamo come andrà Il secondo tempo Inizione l'Inter subito Traversa di Jovetic Tiro dalla distanza fuori Inizione qua l'Inter Che avanza Medel Dentro allora gli Aicici In secondo tempo Nei quale ragazzi Non sta succedendo nulla Ora Medel attraversa Ancora l'Inter Jovetic Trovatela dentro Colpo di testa Tata Tu sanno No ragazzi Che errore Error mio Error mio Error mio 3 a 1 Inter Ma errore Veramente mio Madornale Guardate qui Che cosa ho fatto Error mio 3 a 1 Tino Costa Tino Costa Arriva al tiro Andamovic Teglio verso Tino Costa Rigore Calcio Di rigore Nettissimo Tiro Gol 4 a 1 Non sbaglio Il calcio di rigore Sono anche un po' Allenato Quindi Ora i rigori Li tirerò meglio Costa Prova il tiro fuori Questo è stato L'ultimo tiro Delle match Perché la partita È appena finita 4 a 1 Per noi Abbiamo dominato Contro l'Inter La sconfitta Contro il Torino Ci ha fatto bene Che avete visto Come hanno giocato Con il coltello Tra i lenti Ragazzi Questa è la classifica Noi siamo a 64 punti Segue la Juventus A 56 Poi l'Inter A 52 La Lazio A 48 La Roma A 43 Abbiamo giocato 25 partite In totale Nel prossimo episodio Andremo ad affrontare Il Deportivo La Corugna Nell'andata Di Europa League Partita fondamentale Perché sono Gli ottavi Di finale E nel secondo match Affronteremo L'Atalanta Quindi ci aspetta Un episodio Decisivo Che sarà Sempre mercoledì prossimo Alle 14 Ragazzi Come sempre Vi invito a lasciare like Commentare Se volete dirmi qualcosa Quando vedete questo video Mi raccomando Come sempre Se non lo avete fatto Iscrivetevi al canale Considerate anche vostri amici Qui sotto Come sempre Trovate tutti i miei social network Ragazzi Noi ci vediamo Mercoledì prossimo Alle 14 Per il proseguo Della carriera Con la Fiorentina Qui d'Angelo Di 83 Ciao gamers Noi ci vediamo 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 Noi ci vediamo